signore sto per mangiare un po' un belmo questo l'ho detto su youtube perchè fa a dimagrire e brucia i grassi se poi dopo ti scrofano in mezza tavola non funziona più che vuol dire? questo brucia tutti i grassi come l'ananas si fateci un bagno dentro e vediamo da 1 a 10? da 1 a 10? ma di schifire? quello che vuoi tu 10 proprio fa schifo